Il messaggio principale è quello di fare molta chiarezza. Ci sono tanti dati, tante iniziative, tanti elementi, ma mancano delle informazioni un po' più dirette, concrete, soprattutto sugli impatti sulle aziende. Molte aziende non sanno esattamente ancora come orientarsi sulla sostenibilità, mentre invece c'è l'esigenza di capire quali tecnologie utilizzare, quali costi dover sostenere. Le istituzioni dovrebbero in qualche modo cercare di rendere più chiaro il quadro, approfondire su settori molto complessi come il trasporto e la logistica, gli elementi di base per poter procedere ad una effettiva decarbonizzazione delle loro attività.